Ma io dico che abbiamo giocato una grande partita e sarebbe stato un delitto non raccogliere i tre punti contro un avversario forte che per mentalità se la gioca sempre, un avversario che non molla mai, un avversario che sta anche molto bene dal punto di vista fisico perché ha cominciato la stagione in grande anticipo rispetto a tante altre squadre e perché poi loro venivano da nove giorni di non partite, quindi noi abbiamo giocato una grande gara, in alcuni momenti abbiamo allentato i ritmi perché, ripeto, siamo alla quinta partita in 14 giorni e questo si fa sentire perché poi noi non giochiamo un calcio né speculativo né un calcio fatto di intensità, di ritmi e di velocità. Abbiamo creato tanto, abbiamo avuto soltanto il piccolo torto di non concretizzare quello che abbiamo creato e abbiamo tenuto il risultato in bilico e poi loro ci hanno pareggiato la partita sul calcio di rigore. È una vittoria importante perché qui non sarà facile fare punti, ma sono pienamente soddisfatto delle risposte che ho avuto. Se in alcuni momenti della gara abbiamo allentato i ritmi è soltanto perché, ripeto, siamo alla quinta partita in 15 giorni perché abbiamo alcuni giocatori, ce ne sono tanti, da Candellone a Maras, a Semenzato, che sono arrivati dopo con noi, a Lollo, eccetera, che quindi non hanno in questo momento i 90 minuti, soprattutto per i ritmi che teniamo. Vittoria meritata contro una vessare a cui faccio i complimenti, qui non sarà facile fare punti, ma noi l'abbiamo fatto legittimamente pur soffrendo, ma abbiamo sofferto per questi due motivi. perché, come ho detto prima, non è facile giocare ogni tre giorni e perché abbiamo sprecato qualcosina di troppo rispetto a quello che abbiamo costruito. In campo noi siamo partiti bene, con una motorevolezza, concretizzando, costruendo, anche sciupando, aggredendo, concedendo nulla. Poi anche oggi abbiamo subito dei gol, ma non è che abbiamo corso chissà quali pericoli. Di contro abbiamo creato tanto. Ripeto, non è facile dopo tre partite giocare 90 minuti con i ritmi che intendiamo tenere noi e soprattutto diventa veramente impossibile farlo quando sei alla quinta partita in 14 giorni. Per cui in alcuni momenti, lo ripeto, abbiamo allentato e di fronte abbiamo una squadra che non molla mai, una squadra che per mentalità gioca sempre, cerca di proporsi, cerca di farti male, cerca di attaccarti, cerca di pressarti e quindi il risultato è stato in bilico. Ma è una vittoria legittima e meritata, importante per come l'abbiamo ottenuta, soprattutto per tanti momenti di partita, per la prestazione autorevole. In quel momento, sì, loro da 15 giorni non toccavano il pallone, però 15 minuti di partita li potevano fare. In quel momento l'innessia della gara era quella, sono entrati bene. Abbiamo cambiato anche dal punto di vista tattico, ci sono anche sacrificati, ci trovo un giocatore molto d'utile che può fare tante cose. Anche loro avranno bisogno di ritrovare una migliore condizione. Il tempo giocherà a nostro favore, nel frattempo abbiamo fatto una buona partita, una prestazione autorevole. Grazie. Grazie. Grazie.